Questo è il primo seminario del ciclo che abbiamo dedicato alla questione meridionale. Si affianca a quello sulla storia italiana nell'età della Repubblica e a quello sui maestri dell'Istituto e anche, ma in un altro modo, con un altro pubblico, al ciclo delle conversazioni che pur è iniziato pochi giorni fa. Abbiamo ritenuto che per l'Istituto, per la tradizione dell'Istituto, per la storia e per la città in cui l'Istituto si colloca che appunto il tema della questione meridionale dovesse essere uno dei centri della riflessione che veniamo sviluppando. Naturalmente sappiamo molto bene, e ne abbiamo anche ragionato quando abbiamo pensato proprio a questo ciclo, che oggi la questione meridionale si pone in termini del tutto nuovi, che la dranchetta soprattutto ormai sono potenze internazionali, potenze mondiali e non sono più ristrette né in ambiti regionali né in ambiti solamente nazionali. Già a suo tempo Sciasce per dire che la mafia era ormai un fenomeno nazionale italiano, non era più un fenomeno siciliano e basta. Allo stesso modo si può dire più complessivamente che le organizzazioni criminali di quel tipo italiane ora si muovono a livello internazionale e gestiscono capitali e mezzi e strumenti straordinariamente rilevanti, molto diversi appunto da quelli che erano stati tipici delle organizzazioni mafiosi o criminali nel periodo passato. Abbiamo quindi ritenuto importante però iniziare la riflessione sulla questione meridionale da quelli che ne sono i momenti costitutivi, generativi. Quindi da un lato la grande impresa della rassegna settimanale di Sonnina e di Franchetti su cui torneremo con un seminario appunto del resto del lupo e poi con il grande testo delle lettere meridionali di Masquale Villari. Per questo abbiamo invitato appunto l'amico Moretti che è studioso, noto ed espertissimo appunto sia di quest'autore che di questo tema. Mi fa piacere che particolarmente che sia con noi anche perché è un interesse certamente autonomo di Moretti ma coltivato anche nel rapporto con il maestro di molti di noi e mi riferisco a Eugenio Garenne anche a un modo di parlando di Villari di ricordare in qualche modo anche il lavoro che Garenne c'è a suo tempo per riportare Villari al centro dell'attenzione degli studi storici con dei saggi che hanno lasciato un'impronta profonda sia in questo tipo di studi sia in genere sulla questione meridionale. Procederemo come facciamo normalmente cioè il professor Moretti farà una lunga o quanto ritenga lui una lunga riflessione che introduce il tema e poi ci saranno appunto le domande e la discussione degli allievi dell'istituto. Prego professor Moretti. Grazie, ringrazio molto per l'invito, ringrazio molto il professor Ciliberto per queste parole introduttive. La citazione di Eugenio Garenne mi riporta a tempi lontani, fu il mio relatore interno di normale alla tesi, io conservo alcune pagine del dattilo scritto originale con le correzioni di Garenne, scrupoloso fino alle virgole, fino veramente ai dettagli più, dai minimi del testo. E in questo saggetto che per puro caso ho appena pubblicato su Villare, sull'approssimazione alle lettere meridionali, ma del tutto indipendentemente, i tempi non avrebbero potuto coincidere con quelli dell'invito, scrivevo in nota che alle molte pagine delicate da Garenne la figura all'opera di Villare si ricorre sempre molto utilmente per le varie notazioni critiche di contesto e per la chiara indicazione delle profonde implicazioni etiche degli scritti politici di Villare. È veramente quello che penso di questa eredità studiografica che in questo settore di studi ha avuto un ruolo nel secondo dopoguerra determinante, nel recupero appunto di questa tradizione. Volevo partire da un'altra citazione, stavolta di un documento. Il 18 marzo del 1875 Villare scriveva alla futura moglie, che era un inglese, figlia di un deputato inglese, vedova di un italiano, Linda White Mazzini, presente nel carteggio di Mazzini con due Z, era una donna legata a circoli democratici insomma. Scriveva, dico, vedendo che per ora alla camera non era possibile sperare che si parlasse di poveri in un modo qualunque, mi sono deciso a scrivere alcune lettere all'opinione sulla camorra, il brigantaggio e la mafia. Abbiamo qui il momento in cui Villare decide di fare quello che poi farà, di trasformare dei materiali che lui aveva preparato per una campagna parlamentare. Chiaramente aveva dei testi scritti, aveva già raccolto e da tempo i materiali poi confluiti nelle lettere meridionali e di trasformarli invece in un altro tipo di intervento, un intervento giornalistico che probabilmente è stata la fortuna poi di questi testi consegnati e sepolti negli atti parlamentari forse avrebbero pesato molto meno, mentre come vedremo più avanti le lettere furono largamente discusse. Ed è il momento per l'appunto in cui si passa alla stesura di articoli di giornale. L'ultima lettera porta in calcio la data del 20 marzo, lui le aveva sostanzialmente preparate, verranno pubblicate sull'opinione, il grande giornale liberale di Giacomo Dina, di Quintinosella, su questo poi vorrei tornare, fra il 23 marzo e il 4 aprile del 1875. Cioè vengono pubblicate appuntate per rispettare gli spazi possibili in un giornale quotidiano. Era questo uno degli sbocchi possibili di una iniziativa che era stata comunque decisa e avviata da tempo. Abbiamo molti documenti che attestano in Villari l'idea di avviare in qualche modo una campagna di informazione, di stampa, di discussione che risalgo nei primi anni 70. Lui pensa da tempo di agire in questa direzione, si è reso conto in quel momento è deputato che alla camera non ha margini di manovra sufficienti per sollevare il problema come vorrebbe, sceglie un'altra strada. Sulla storia e sui caratteri del testo vorrei tornare fra breve, ma prima credo che sia necessario caratterizzare il personaggio, nome notissimo e attorno al quale si è scritto anche molto, anche se sui caratteri di questa storiografia bisognerebbe fermarsi a lungo. Per introdurre qualche mia sommaria considerazione vorrei partire da una splendida lettera, come ne sono molte di quel carteggio, di Croce a Gentile del 9 gennaio 1908. L'anno 21, 1909, vorrei aprire l'anno con un articolo su Pasquale Villari, l'anno della critica. Perciò approvando pienamente il disegno del tuo primo articolo sul positivismo, ti prego di toccare appena del Villari e solo per il lato che ti interessa, altrimenti mi sarà impossibile ripigliare l'argomento. Questi filosofi letterati o letterati filosofi dovremo spartirceli da buoni amici. Sono per me una preda deliziosa e mi fanno scrivere belli articoli con poca fatica. Era un giudizio netto e però, attenzione, a parte la bellezza del testo. Preda deliziosa e poca fatica per loro, cioè per Croce a Gentile. Per noi studiosi normali le cose sono un po' diverse. In realtà sono prede non così semplici da aggredire e soprattutto occorre molta fatica per accostarsi davvero al contesto assai complesso in cui si colloca la loro, Croce a Gentile, sono di un altro pianeta, sono le due più grandi tesse della cultura italiana, ma alla fine dell'Ottocento e tutta la prima metà del Novecento. Ripeto, si capisce il senso di quella lettera, però riconduciamola a quella lettera. Purtroppo, invece, le cose nella storiografia italiana non vanno sempre così. Villari ha avuto una vita lunga, nato nel 1827 e morto nel 1917, novanta anni, all'epoca. Un'opera inquadrabile in diversi ambiti tematici, pedagogista, scrittore politico, storico, scrittore prolifico. E purtroppo, invece, si continua a pensare che sia una preda deliziosa, abbordabile con poca fatica, con poco sforzo. Una vita fa, nel 1980-81, mi capitò di dedicare due saggi nel complesso 120 pagine, non a una indagine su Villari, attenzione, ma a un tentativo, non riuscito, di raccogliere e di discutere brevemente quanto su Villari si era scritto, a partire dalla memoria crociana sulla storia del 1993 fino al 1980, cioè una rassegna di studi. 120-130 pagine. Magari ho esagerato, eh? Si tratta comunque di una produzione larga e frammentaria dedicata a questo personaggio. Però preferisco questo eccesso all'eccesso opposto, che trovo in alcuni studiosi giovani, la Lota di Blasi, Giustina Manica, che ad esempio hanno di recente in lavori su Villari pubblicati come inediti, carteggi già editi e da tempo è facilmente individuabile come editi. Questo fa parte di una tendenza più generale sulla quale bisognerebbe discutere a lungo, alla rottura del rapporto con la tradizione storiografica. Questo è un fatto assolutamente generale nell'ambito degli studi storici. Ormai si parte dalle fonti, si tende a non considerare o a considerare molto marginalmente la tradizione degli studi e ci si misura con le fonti spesso senza nemmeno accertarsi sullo stato delle fonti. E qui viene in mente, cito a memoria, mi perdonerete, un'altra grandiosa pagina crociana tratta dalle pagine sparse, scusate, dalle pagine sulla guerra, l'originalità essere il conoscere bene il lavoro degli altri e sapersene servire per far avanzare il proprio massimo a questa che temo pochissimo seguita ormai nell'ambito degli studi storici, almeno in Italia, ma non solo, ma non solo in Italia. Vabbè, insomma, sono mie malinconie personali. E questi caratteri di approssimazione storiografica si trovano anche in più di un saggio riservato al Villari politico. Un'ultima avvertenza generale. Per Villari, come credo per il suo allievo più importante, Gaetano Salvemini, sia dal punto di vista politico che storiografico, cioè è un schepedagogico, Salvemini opera negli stessi campi tematici del maestro, in tutti i campi tematici del maestro. Quindi per Villari, come per Salvemini, vale un'avvertenza legata proprio ai tratti specifici della loro opera, ricca, piena, continua, però priva di grande densità teorica, priva di grande sforzo sistematico. Non sono quelli i punti di forza, né di Villari, di Salvemini, lì Croce e Gentile avevano ragione da vendere. Occorre di questi autori produrre al possibile o misurarsi al possibile con una lettura sincronica e non diacronico tematica. Cosa voglio dire? Isolare gli scritti politici di Villari dall'insieme della sua produzione e seguire solo quel filo rischia di portare a gravi fraintendimenti. Bisogna invece leggere in parallelo, sincronicamente, gli scritti dedicati ad altri argomenti, in particolare per Villari ma anche per Salvemini quelli pedagogici, perché il rapporto fra pensiero scolastico, riforma della scuola, delle scuole e questione sociale nella tradizione italiana post-unitaria è fortissimo, uno dei punti di snodo decisivo. Certo c'è l'economia necessaria della ricerca, non si può leggere sempre tutto di tutti, però qualche sforzo di arricchimento laterale per evitare semplificazioni e incomprensioni va fatto. L'opera di Villari è stata quindi inserita dentro diverse genealogie che spesso gli stanno strette. Per rammentarne una che riguarda la storiografia e riguarda di nuovo uno dei grandissimi autori che citavo prima, quella del Villari Savonaroliano e Neopiagnone presentato in uno straordinario libro di Giovanni Gentile, Gino Capponi e la cultura toscana, ma lì abbiamo da molti anni un saggio di Fulvio Tessitore che aveva messo le cose in chiaro sulla parzialità di quella ricostruzione. E questo è vero naturalmente anche per gli aspetti della cultura politica. Io temo, per andare un pochino più vicino al nostro oggetto, che il meridionalismo, visto retrospettivamente, rischi di essere, ma lo diceva molto bene il professor Ciliberto, un'etichetta ormai insoddisfacente. Cioè è vero ovviamente che le lettere meridionali sono all'inizio di una storia, di una tradizione testuale. Questo è innegabile. Credo però che vadano lette appunto in un contesto più largo. Così come la collocazione di Villari, tante volte ribattuta in tanti saggi, soprattutto di colleghi fiorentini, all'interno della destra toscana, se c'era una cosa che Villari non era, era un moderato toscano. Tanto non era toscano, anche se stava a Firenze del 1849 e poi aveva pochissimo a che spartire con gli orizzonti culturali propri dei Capponi, dei Peruzzi, dei Ridolfi. C'entrava da lì, conosceva, ci collaborava naturalmente, stava lì, operava nelle istituzioni dove loro operavano, ma in maniera molto conflittuale. Poi due parole le vorrei spendere sull'Università di Firenze, o meglio sull'Istituto di Studi Superiore di Firenze, di cui si celebra a giorni, credo, il 6 febbraio prossimo, il centenario invece di trasformazione in Università degli Studi, 1924, appunto con la riforma gentile. Tiriamo un punto. Villari, uomo politico? Beh, certo. Deputato, senatore, più volte vicepresidente del Senato, sottosegretario e poi ministro a pubblica istruzione, collare dell'annunziata, insignito dallo stesso re che poi lo dette molto più tardi a Dino Grandi, ma lasciamo perdere. Insomma, sono le grandi onoreficenze, sono le grandi onoreficenze del regno. Certo che è un uomo politico, però il suo è tutto sommato il profilo di un non politico. Cosa voglio dire? Tanto che il centro della sua attività non è stato il Parlamento. I discorsi parlamentari meritoriamente editi dicono molto meno, salvo uno molto bello del 1875 sui rapporti fra Stato e Chiesa, veramente molto bello quello, ma dicono meno dell'opera saggistica e pubblicistica, non è lì che lui gioca la sua partita. E soprattutto non la gioca per niente, né le funzioni tipiche di un deputato nei rapporti con il collegio elettorale. Ti scorra il carteggio solo parzialmente inedito con il suo uomo nel collegio dove veniva eletto, che non è un collegio meridionale, è il collegio di Guastalle in Emilia Romagna. Quindi la sua esperienza di questione contadina è un'esperienza anche padana. E Villari ha sempre uno sguardo nazionale, su queste prospettive. Non è un meridionalista in senso nittiano, ma ci arriveremo. E beh, si accorge che lui del collegio si occupava poco e nulla, cioè che il mestiere di deputato, la gestione del consenso, la gestione degli affari locali, il consolidamento della sua posizione all'interno di una rete di relazioni politico-parlamentare, non lo sapeva fare. Non era proprio il suo, e di fatti la sua esperienza alla Camera è molto breve. Poi, nominato al Senato, il Senato era vitalizio, non si era più rieletti, si poteva far politica con un po' più di calma, ma non era il suo mestiere. Questo non vuol dire che non fosse un uomo delle istituzioni. Questo è un altro discorso. Lui è stato preside di facoltà, per semplificare, non era una facoltà e non si chiamava preside, ma svolgeva il ruolo di preside di facoltà dal 1867 al 1913, se non mi sbaglio, cosa oggi quasi impensabile, ed è stato all'interno del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che era il massimo organo consultivo dei ministri della pubblica istruzione nel Regno d'Italia, prima della riforma di Gentile, il docente con il maggior numero di anni di presenza, il professore universitario che più ha contato all'interno di quelle che sono le istituzioni di governo della scuola. Quindi non è un uomo privo di spessore politico, non è forte specificamente sul versante politico parlamentare, perché lui pensa ad altri tipi di iniziative. So che si parlerà appunto della rassegna settimale, che è effettivamente la traduzione concreta del disegno di intervento pubblico di Villari, e che poi ritroverete pari pari, in maniera ripresa quasi alla lettera, nell'unità di Gaetano Salvemini, che è una ripresa prima novecentesca di quel modello di azione intellettuale. Un gruppo abbastanza coeso, abbastanza articolato, abbastanza largo di studiosi, ma piccolo, che svolge un'opera di informazione, di costruzione dell'opinione pubblica attorno a un periodico, che esca abbastanza di frequente, la rassegna settimanale e l'unità. Il modello di azione politica quindi scelto è questo, quello dell'informazione, del lavoro di un gruppo abbastanza coeso ma articolato al suo interno, che si proponga come punto di riferimento per una classe dirigente in grado di assorbire i termini di una cultura politica rinnovata. È, e questo lo differenzia e molto da tante altre esperienze italiane, tante altre esperienze italiane. È una persona di rilievo internazionale, da subito, da quando è giovane. Villari è il principale corrispondente italiano, stando ai documenti di John Stuart Mill, a metà degli anni 50, molto prima dell'unificazione nazionale, mi pensa di tradurre il sistema di logica. In Italia i filosofi italiani neanche sapevano di cosa si parlasse all'epoca. È uno dei pochi intellettuali italiani che parlano inglese, perché allora la lingua veicolare del francese è la lingua intellettuale del tedesco. L'inglese cominciava a entrare soltanto allora, diciamo, nell'uso. E questa sua dimensione internazionale lo separa e di molto dal contesto nazionale. Un dettaglio curioso che mi è capitato già di ricordare. Il primo traduttore in inglese della biografia di Savonarola, che esce nel 59-60 e viene subito tradotta in inglese, si chiama Leonard Horner. Era un geologo corrispondente di Darwin, citato da Marx nel Capitale, perché faceva anche l'ispettore del lavoro e quindi faceva le relazioni sulle fabbriche, e una delle figlie di questo Horner aveva sposato il grande storico tedesco Perz. È questo l'orizzonte, è questo il perimetro nel quale si muove Villari, altro che i neopiagnoni fiorentini. Lì Gentile, che lo sapeva, quella è un'opera a tesi, sapeva benissimo che le cose non stavano così, da un ritratto consapevolmente, consapevolmente sbagliato. Dai diari di Gladstone, cioè del più grande liberale del mondo del XIX secolo, sappiamo che Gladstone era un lettore di Villari, il Savonarola appunto, e la seconda edizione inglese del Savonarola Villari la dedicherà appunto a Gladstone. Gladstone, attenzione, vuol dire l'Irish Land Act, vuol dire la riforma agraria in Irlanda, vuol dire l'Hom Rule, la questione contadina. Villari la guarda anche da questi osservatori qui, non solo dalla mezzadria toscana o dai contratti agrari in Sicilia. E questo veramente lo separa. In parte Sidney Sonnino, per la sua esperienza internazionale, per la sua provenienza, per il suo ambiente di riferimento, aveva punti di riferimento paragonabile, ma pochissimi altri. Villari appartiene a una cultura, ora definirla laica è semplificare il discorso, laico vuol dire poco, ma molto distante da un certo italianismo tradizionalista, come dire, della vecchia Italia che deplorava, che deplorava d'Azzeglio. E c'è un indizio interessante, ho scritto un saggetto che non è ancora uscito, alcuni dei suoi principali interlocutori, fra filosofia e politica, erano preti spretati. Atto Vannucci, Bertrando Spaventa, col quale poi litiga, Roberto Ardigò, Gaetano Trezza, il più grande di tutti, il recensore in Italia della vita di Gesù di Renan, latinista e studioso molto importante di Lucrezio. Questi sono nomi che i moderati toscani guardavano con orrore all'Istituto di Studi Superiore a Firenze, fanno il possibile per non dare la cattedra di latino attrezza, è Villari che si impunta e che alla fine riesce a fargliela dare, ma erano nomi e non riuscirà a portarci a Digo. Lì non ce la fa nemmeno lui, non riuscirà a portare sulla cattedra di filosofia. A Firenze c'era Augusto Conti, del quale Garen diceva che era un pensiero che funzionava come un filtro a rovescio, le idee entravano chiare, uscivano confuse. Ecco, a Firenze insegnava Augusto Conti e Villari non riesce a portarci a Digo. Cioè è in un ambiente ostile, altro che l'uomo legato ai moderati toscani, è un uomo che convive con i moderati toscani e che quando è chiamato a fare delle scelte, come nel marzo del 76, quando i moderati toscani fanno cadere il governo della destra, Villari non vota con loro. Villari vota per il governo, non vota con Peruzzi. Quindi ci sono come dire genealogie nelle quali è stato inserito arbitrariamente e sulle quali occorre fare un po' di chiarezza. E' uno dei primi in Italia in un corso di filosofia della storia a Pisa nell'anno accademico 62-63, quindi subito, a citare Darwin. Lui è stato in Inghilterra per l'esposizione di Londra nel 1862 e si è portato dall'Inghilterra Darwin e Henry Thomas Buckle, la storiografia positivistica, quella vera, quella pura e dura, quella delle leggi e materialistica, che a lui non piaceva molto, ma insomma era un elemento di novità. Cosa voglio dire? Voglio dire che dietro il progetto che vede nelle lettere meridionali uno dei tasselli di un cammino, c'è un profilo intellettuale nell'Italia del tempo abbastanza atipico, abbastanza atipico in realtà non ben riducibile a degli schemi ai quali siamo abituati. È un osservatore molto attento della vita internazionale. Un saggio purtroppo non ripubblicato e che non ha avuto fortuna è un saggio del 1864 sulla guerra civile americana, che ne dà una lettura in termini migliani di interessi economici contrastanti, di regimi agricoli e industriali diversi, dove chiaramente c'è il problema etico e civile della schiavitù, ma dove non tutto è ridotto alla contesa sulla schiavitù, perché un evento del genere va collocato in un quadro naturalmente più ampio. E poi dietro c'è un cammino più lungo che bisognerebbe seguire in molte tappe, in realtà dagli anni 50 al 1875, ma io abbrevierò necessariamente cercando di tener conto delle indicazioni di lettura che ci dà lo stesso Dillari. Allora, che la situazione meridionale fosse problematica, Dillari se ne accorge subito. Lo sapeva, tra l'altro. Era dovuto scappare da Napoli, tutto sommato nel 49, era stato arrestato anche se aveva uno zio ministro, uno zio materno ministro, quindi lo scarcerano subito, insomma se la cava abbastanza bene dopo i moti del 48, non ha grandi problemi, però preferisce andarsene a Firenze, ma ha contatti con la città. Ci torna nel 60, quando arriva Garivati. E ci torna, nonostante qualche contatto con gli ambienti democratici, con Agostino Bertani in particolare, che però poi rimarrà suo amico. Bertani è un personaggio importante, un medico, un grande esperto di pellagra e di questione contadina nella pianura padana, un amico di Cattanea. A solito, rapporti trasversali che non rientrano bene negli schemi consueti. Conque Villari si schiera con gli spaventa a favore di Cavour, a favore della soluzione unitaria e cavuriana. Non ha dubbio. Rimane però poi a Napoli, o meglio torna a Firenze e poi torna di nuovo a Napoli e da Napoli manderà delle corrispondenze a un altro importante giornale dell'epoca che si chiamava La Perseveranza e che usciva a Milano. Queste sono le cosiddette prime lettere meridionali. In realtà le prime lettere meridionali in sé non esistono, se le ha inventate Gaetano Salvemini ripubblicandole lui dopo la morte di Villari. Villari che ripubblicava quasi tutto, era un gestore molto attento del proprio patrimonio, del proprio lavoro, riciclava anche ampiamente, ma vabbè come si fa, come fanno tutti, non aveva ritenuto opportuno ripubblicare tutti questi testi, ne aveva ripresi solo due, nella seconda edizione in volume nel 1885 delle lettere meridionali. Salvemini invece ne ripubblica tutte. Sono testi interessanti perché emerge da subito uno sguardo, come dire, un po' strabico che poi caratterizza anche le lettere meridionali, il problema urbano, cioè Napoli, che è il punto di forza, secondo me, storiograficamente, anche per le ricadute che ha avuto dell'analisi villariana, quello che conta davvero, quello che poi ha prodotto molti altri risultati, molta riflessione è Napoli e dall'altra parte le campagne e l'incipiente brigantaggio. Non c'è ancora la mafia perché Villari di Sicilia nel 61 non sa sostanzialmente niente, ma alcuni temi sono già chiaramente accennati in queste lettere che girano, guardate perché poi la fortuna dei testi è clamorosa, io non mi sono azzardato nemmeno a contarle, ma negli ultimi vent'anni sono uscite almeno 5 o 6 edizioni delle lettere meridionali, almeno sono quelle che ho trovato così guardando un po', senza contare quello che si trova sulla rete. E queste prime lettere meridionali le trovate anche in alcuni curiosi siti, tra virgolette, neoborbonici, perché criticando Villari l'azione della luogotenenza piemontese regia, vengono usate per dimostrare gli effetti negativi della presunta conquista del Sud, eccetera, eccetera. I testi hanno una vita tutta loro che andrebbe poi seguita fino nei dettagli più strani, ma su questo sorvoliamo, ma sarebbe bellino scriverci un articolino sul Villari meridionalista nel web, ci sarebbe da divertirsi, però bisogna che lo faccia uno che usa il web molto meglio di quanto possa farlo. Poi il tema cade. Il tema cade per gli impegni personali di Villari in quel periodo, lui fra il 1862 e il 65 è il direttore e l'uomo che riorganizza così come ora, è l'inventore della normale di Pisa, è lui che dà la forma a questa grande istituzione, è il primo direttore dell'Italia Unita. Ha molto da fare, poi passerà a Firenze dove farà il preside a vita, ha molto da fare. Tutto questo riemerge in maniera molto forte nel 1866, quando ci si confronta con un evento traumatico, che è quello dell'Italia messa alla prova e delle sconfitte nella cosiddetta terza guerra dell'indipendenza, in realtà nella guerra austro-prussiana. E tolte le lettere meridionali forse il testo più famoso di Villari, quello al quale dobbiamo alcune citazioni che sono entrate nei modi di dire comuni quando si affrontano questi problemi. Il titolo del testo famoso è di chi è la colpa, e già porre il problema in questo modo era singolare, non è un titolo originale, ne giravano in quel periodo. E la citazione alla quale, qui vado a memoria, ma insomma è così, alla quale faccio riferimento era famoso, non è il quadrilatero di Manto e Verona che ci ha potuto fermare, ma il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di arcadi. Cioè questa struttura sociale totalmente arretrata, sia alla base che al vertice, che mostra in piena evidenza che il Regno d'Italia, nato con grandi aspettative che pensava di aver progredito, sconfitto il brigantaggio col bilancio in fase di riassestamento, pensava di aver progredito e di fronte a una grande prova di politica internazionale aveva in realtà mostrato tutti i suoi limiti. E da qui il discorso si intensifica. Io, ma non solo io, ho sempre dato molta importanza ai 17 milioni di analfabeti. Cioè è la questione sociale. In realtà quando uno considera l'intera opera di Villari e più ci penso, più mi convinco che in effetti il problema è complesso, contano molto anche i 5 milioni di arcadi. Cosa voglio dire? Cosa voleva dire Villari? Che se alla base del paese c'erano condizioni di vita sostanzialmente intollerabili, inadatte a un paese moderno, anche la classe dirigente aveva una cultura non moderna. Gli arcadi, il vecchio italianismo delle accademie, delle corti, della retorica, della poesia latina, che andava sostituito. Se non si tiene conto di questo, non si capisce, ma qui non apro la parentesi davvero, il senso della sua famosa prolusione fiorentina nel 65 sulla filosofia positiva e il metodo storico. Quello è un testo filosoficamente non rilevantissimo, ma è fondamentale come programma di politica culturale, che è un'altra cosa. Non bisogna andare a cercare delle raffinatezze teoretiche in Villari, non era nella sua cifra. Voleva dire provare a cambiare la testa dei 5 milioni di arcadi, che è molto più difficile che alfabetizzare gli analfabeti. Perché alfabetizzare gli analfabeti, se si avvia una politica scolastica decente, ci si riesce. Cambiare la testa delle persone, modificare il perimetro concettuale e culturale di una classe dirigente è molto più complicato. E questo lui lo affidava alla politica, alla scuola secondaria, all'università, che sono i poli della sua attenzione di uomo di cultura. Ha fatto quello per tutta la vita. Il professore, il preside, il politico scolastico. Come si fa? Se si prende il testo delle lettere meridionali, e qui cominciamo forse a fare qualche citazione in diretta, ci si accorge, e molti hanno notato, della dolorosa ironia di Villari nei confronti di chi pensa di potersi semplicemente affidare alla libertà. C'è una citazione famosissima che restava fatta testualmente, perché poi l'uomo sapeva scrivere, non è che fosse uno scrittore da poco, aveva una grande efficacia comunicativa e quindi ogni tanto sui testi bisogna tornare. Per ora vedo ancora che, quando torno a Napoli, il mondo è mutato per me e per i miei amici. La parola è libera, la stampa è libera, molte vie si sono aperte dinanzi a me. La differenza è come dalla notte al giorno. Se dovessi tornare al passato, mi parrebbe di scendere nella tomba. Abbandono le strade centrali, vado nei quartieri bassi e ritrovo le cose come ne lasciarono i Borboni. I fondaci Scannasorci, Tentella, San Crispino, Pisciavino, Del Pozzillo, eccetera, sono là, sempre gli stessi, coi medesimi infelici, forse ancora più oppressi, più affamati di prima. Tutta la differenza, semmai, sta in ciò che il muro esterno fu imbiancato. E sono allora tentato di domandare a me stesso, ahi, dunque la libertà che tu volevi era una libertà per tuo uso e consumo solamente? No, lo Stato liberale come regno della borghesia. Sono elementi fortemente autocritici che segnano in molti passaggi questo testo e dei quali occorre tenerebbe al conto. Quindi come si fa ad agire? Villari non è un dottrinario. È un bel libro di tanti anni fa, che è un allievo, credo, dell'Istituto Croce, Innocenzo Cervelli, grande storico e grande amico, dedicò a Gioacchino Volpe. In realtà per circa metà del libro si parlava di Villari, poi sostanzialmente grande precedente. E Cervelli insisteva molto sulle matrici germaniche del pensiero economico sociale di Villari, il socialismo della cattedra, il congresso di Eisenach del 72, Schmoller, eccetera, eccetera. Lo storicismo economico tedesco, certo lui li conosce, ne discute. È sicuramente vero che tiene presenti queste nuove tendenze non lesse ferde l'economia politica. Ci aveva pensato da solo però, attenzione, il congresso di Eisenach, quello degli economisti tedeschi del 1872. Facendo un'edizione di Filangeri nel 1864, quindi molti anni prima, Villari aveva attaccato frontalmente la lettura, come dire, la critica liberista che Benjamin Costant aveva fatto dell'opera di Filangeri e della cultura illuministica. Quel liberalismo lì, il liberalismo primo ottocentesco, il liberalismo dell'SFR, a Villari non piaceva e lo confutava ad uno dei massimi esponenti del pensiero liberale della prima metà dell'Ottocento, appunto Benjamin Costantino. C'era arrivato da solo, ma l'esempio tedesco gli serve per trovare ulteriori appigli. Ha questa sua visione storicistico-interventistica, non so come dire. Bisogna che qualcuno faccia qualcosa, se ci affidiamo alla spontaneità delle forze sociali, da questa dinamica qui non si esce, non ce la facciamo. Ma è soprattutto l'esempio inglese, e qui citavo prima Gladstone, non a caso. La capacità di una classe dirigente di farsi carico, poi Gladstone l'ha pagata cara, non è che poi quando l'hanno mandato via dal potere non c'è tornato più, però la capacità di una classe dirigente di farsi carico dei problemi della società, di impostarli, di risolverli su una base molto netta, citavo prima non a caso a Corner, inchieste, quindi conoscenza documentata dei fatti e provvedimenti basati empiricamente sulle evidenze emerse dall'inchiesta. Quindi né liberismo astratto e dottrinale e però direi neanche socialismo della cattedra alla tedesca, cioè una vera visione organicistica della politica economica. Come si fa? Si fa mettendo insieme, radunando un gruppo di persone, di privati, che studino le questioni e che le pongano all'interesse della pubblica opinione. Lui si rivolge a molte persone, non solo, io adesso non vorrei fermarmi troppo su questi aspetti ma sono importanti, non solo a quelli che saranno poi i suoi più stretti collaboratori nella rassegna settimanale, cioè a Sonnini e a Franchetti, tanto l'incontro è più tardo con loro, mentre lui su queste cose lavora da prima, non ci lavora solo la metà degli anni settanta. C'è una lettera molto bella a Roberto Ardigo ed altre a un saggista oggi dimenticato ma che fu un uomo abbastanza importante nella cultura italiana del tempo, Tullo Massarani, che è stato il primo senatore ebreo del Regno d'Italia, uno storico critico d'arte, saggista villari, ha rapporti non solo col sud e con i meridionalisti ma col nord e con i grandi intellettuali, Carlo Tecca, il suo interlocutore importantissimo, del nord, cioè la sua è una rete nazionale, questo tenetelo veramente presente, a differenza del meridionalismo all'anitti, del meridionalismo rivendicativo delle due Italie, Villari è la logica delle due Italie fino in fondo non l'accetta mai, la accenna naturalmente perché ci sono due Italie ma non è quella la prospettiva, è una prospettiva coerentemente nazionale e direi tendenzialmente anche liberal-democratico. Mamma mia il tempo vola ma cercherò di accelerare. Dicevo, a Roberto Ardigon scrive, anche questa è una lettera molto bella, io sono persuaso di due cose, la nostra istruzione non si può rigenerare senza una rigenerazione morale, noi siamo figli della scolastica e del gesuitismo che è una scolastica pratica. Bisognerebbe ammazzare la scolastica nella scienza e nella vita, quanto si diceva prima sugli spretati e sulle impostazioni lai. Crede ella possibile su queste basi formare un'associazione di 20 o 30 persone? Dovrebbero essere persone capaci di esaltarsi, di prendere questa impresa con una fede religiosa nell'avvenire, pronti a fare dei sacrifici sicuri gli uni degli altri, escludere la questione religiosa, occuparsi della morale e della scienza. Che cosa farebbe la società? Attenzione qui, cito qualche esempio. Essa pubblicherebbe i suoi atti. Un giorno si darebbe in carico a un socio di andare a Napoli, visitare i quartieri più luridi, esaminare le case, i costumi, le scuole e poi scrivere una relazione da pubblicarsi. È quello che poi farà fare a Renato Fucini e a Jesse White Mario. Sono lavori su commissione, ce li manda lui a fare questo lavoro. Un altro giorno si andrebbe in un asilo infantile, di nuovo scuola e questione social, e farebbe vedere come in essi succede l'animo e l'ingegno. Descriverebbe i fatti e basta. Fotografie e non altro. Questa società guadagnerà sottoscrittori, pian piano lavorerà a formare una cultura politica nuova. Il retropensiero di Villari, però abbastanza esplicitato, è che dopo il 70, chiusa la partita di Roma, le due culture politiche dominanti del movimento risorgimentale, il vecchio moderatismo liberale e anche il vecchio democraticismo mazziniano garibaldino, siano entrambe inefficaci ad affrontare i problemi dell'Italia Unita. Quindi bisogna provare a mettere in campo una cultura nuova. Attenzione alle parole, perché in questi anni qui, negli anni 70, si comincerà a parlare di trasformare i partiti. Questo è un termine sul quale c'è un bollo negativo, il trasformismo, la corruzione, ma è venuto dopo. In realtà, per la cultura scientifica del tempo, Spencer, Darwin, eccetera, eccetera, la trasformazione delle specie è un processo positivo, non è negativo, perché una specie che non si trasforma muore, cioè fa parte della dimensione evolutiva, che poi nel linguaggio politico italiano il termine trasformismo abbia acquisito caratteri negativi, di corruzione, di personalismo, di incapacità di mantenere una linea e di adeguarsi alla posizione di chi vive, è un altro discorso, ma in questa fase qui fa parte invece di una visione generale di rinnovamento culturale. E' il progetto dell'arsegna settimanale, è quello, ve ne parlerà Salvatore Lupo che ne sa moltissimo, ma è quello che si cercherà di fare con quella rivista, un gruppo di persone, 20 o 30, lì erano un po' di più, che manda in giro, fa inchieste, produce inchieste, produce anche letteratura, storia, perché poi la rassegna settimanale non è solo una rivista meridionalista, l'altro ci scrive Verducci per dire, e delle belle cose, è una rivista di cultura generale che cerca di superare in quel momento, appena caduta la destra, le lettere meridionali escono nel 75, la destra cade nel 76, la rassegna esce nel 78, appena caduta la destra, cerca di creare una base politico-culturale per un movimento politico rinnovato. Quindi è questa la linea di azione privilegiata da Villari. Poi le lettere meridionali sono un testo straordinario con delle memorie. Allora cosa sono tecnicamente? Sono lettere in due sensi, sono lettere che lui scrive a un giornale, ma sono lettere fatte di lettere. Cioè lui si è fatto mandare da Napoli, da alcune persone, molte individuabili, delle corrispondenze che lui usa. È una trama di lettere, sono lettere nel senso specifico. Gli le scrivono la sorella, Virginia, moglie di Domenico Morelli, del grande pittore napoletano dell'Ottocento, che pure collabora. Gli le manda Demetrio Salazar, che è un personaggio importante della cultura storico-artistica napoletana del periodo. Gli le mandano alcuni corrispondenti che gli documentano. Non è un'inchiesta che fa lui. Lui poi ci torna a Napoli a controllare. Se la fa fare e monta questo testo di straordinaria, di straordinaria e efficace. Sono lettere fatte di lettere. Con dei richiami letterari, impliciti ma straordinari, Garen scrive a un certo punto, il professor Ciliberto mi ha dato uno spunto al quale realmente non posso resistere, ricordo così vivamente, Eugenio Garen, scrive che alcune pagine nelle lettere meridionali sono di austerità quasi manzoniana. Ci sono le citazioni, implicite, ma è citato. Una povera vedova, di poco più che trent'anni, di un aspetto che dimostrava essere ella già stata bella, aveva cinque bambini e continua così. E poi va avanti, quella donna deve essere onesta e buona, perché il pensiero che più di tutti la turbava era la riuscita dei figli. Ma la povera vedova di un aspetto che dimostrava essere ella già stata bella, guardate, è il capitolo trentaquattresimo dei promessi sposi e la madre di Cecilia. È impressionante, scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata ma non trascorsa. Gli occhi non davano lacrime ma portavano segno di averne sparse tanto, che attestava un'anima tutta consapevole, il dolore consapevole e presente a sentirlo. Questo è Manzoni. È evidente una memoria letteraria chiarissima, cioè è un tessuto testuale che credo possa offrire ancora scomponendolo bene. Qualche sorpresa, perché l'efficacia del testo è indiscutibile. Per concludere, per avviarmi alla conclusione, mi perdonerete per lo schematismo, ma ci si potrebbe restare molto più tempo. Dove hanno contato? In quali tradizioni hanno contato le lettere meridionali? Sono quattro? La Camorra, quindi Napoli, la mafia, il brigantaggio e i rimedi. La lettera più debole è quella sulla mafia. Villarine è consapevole. Tanto non ha informazioni adeguate, lo dice anche, ma soprattutto è il fenomeno che più che meno si presta al suo schema che vede i fenomeni di delinquenza legati direttamente a un disagio sociale. Villarine gliel'hanno detto che i mafiosi non sono i più pochi, non sono i braccianti, non sono i contadini poverissimi della Sicilia. Lì c'è una struttura che non gli torna. Già su Napoli non torna del tutto, perché lo dice, c'è anche la Camorra dei colletti bianchi, ma torna meglio, mentre sul brigantaggio gli torna benissimo. Lì è la rivolta contadina e quindi questo meccanismo esplicativo basato sulle condizioni sociali funziona meglio anche se, Villarine lo scrive nelle lettere meridionali, chiaramente i problemi sociali non sono problemi di matematica. Cioè non c'è un teorema che ci consenta di proporne una soluzione univoca e priva di articolazioni interne o di possibili alternative. E naturalmente la presenza di lettere meridionali andrebbe rintracciata in vari filoni di studi, quello dedicato alla vicenda di Napoli nell'Ottocento, gli studi sulla storia della mafia, gli studi sulla storia del brigantaggio, lo trovate citato dappertutto ed è difficile da localizzare, una rassegna è quasi impossibile, sarebbe velleitario un censimento dei luoghi in cui le lettere meridionali sono utilizzate, non ci si riesce, però si individuano i filoni. Più di recente è finito in un altro filone che a me lascia un po' perplesso, lo devo dire, l'ho anche scritto in questo saggio, quello del saidismo all'italiana. Qualche anno fa fu pubblicato un libro sulla questione meridionale in Inghilterra intitolato Orientalism in One Country che legge la letteratura medidionalistica in chiave appunto saidiana. E l'altro, l'altro diverso da sé che si vuole dominare, si è arrivati a dire, a me francamente sembra il verosimile, ma forse sono io che sono vecchio e non capisco più, che l'annessione del Mezzogiorno al Regno d'Italia sia paragonabile alla conquista francese dell'Algeria, a me francamente. Messa così sembra un po' eccessivo, se c'è chi scrive cose del genere, beh, avrà lui l'onere della prova di simili. Però c'è un filone che ha prodotto anche libri interessanti. Il libro che vedete lì e che ho citato in bibliografia, quello di Nelson Moe, Un paradiso abitato da diavoli, che studia gli stereotipi sul Mezzogiorno. È un libro anche affascinante, che si legge con grande curiosità, voglio dire, ci si passa una bella giornata a leggerlo e si prendono anche degli appunti. Ho l'impressione che non sia la chiave di lettura fondamentale, cioè che sia un arricchimento laterale, tutto sommato, di un discorso che però ha altre vie di accesso privilegiate, secondo me, da seguire. Detto questo, benissimo, cioè se lo studio delle costellazioni discorsive, come le chiamano, delle metafore, dei vari modi di presentare e costruire oggetti, può rendere un servizio tanto all'interpretazione interna dei testi e poi anche alla genealogia successiva dei testi, ben venga, ma a me sembra, ripeto, un accostamento laterale, mentre centrali, diciamo, sono le lettere meridionali nei due filoni, uno che vanno nella storia della questione agraria in Italia, ne parlerete apposso della rassegna settimanale dell'inchiesta Iacini e della vicenda di Napoli. Su un altro punto vorrei richiamare brevemente l'attenzione, il modo in cui le lettere sono state presentate e proposte. Il direttore dell'opinione, Giacomo Odina, deputato, influente esponente della comunità ebraica piemontese, uomo di Quintino Sella, pubblicando le lettere le fa precedere da una sua nota direttoriale. L'egregio nostro amico, deputato Pasquale Villari, ci fa l'onore di indirizzarci alcune lettere intorno a tre piaghe d'Italia, la mafia con due F, come si scriveva quasi sempre all'epoca, la camorra e il brigantaggio. Sono lettere curiose e importanti. Considerazioni nuove, ma il giornalista è interessato a sottolineare la novità del contributo. Idee peregrine, uno studio accurato della società nelle sue varie gradazioni. Esposizione schietta e vivace di impressioni e di pensieri sono i pregi che raccomandano l'attenzione dell'universale queste lettere di cui oggi cominciamo la pubblicazione. È un'operazione giornalistica, cioè il direttore ha capito le potenzialità dell'iniziativa e ha ragione, perché poi Dina è una persona, è un giornalista capace. Io non ho un quadro completo delle reazioni alle lettere meridionali, ma furono moltissime. Tanto all'estero. Immediatamente alcuni grandi giornali internazionali ne parlano e non era comunissimo che se ne parlasse. Avviene il 9 aprile, appena finita la pubblicazione delle lettere, c'è un lungo articolo sulla Noie Fraie Presse. A Parigi ne parlano il giornal des débats, Le Monde et les Tons, i grandi giornali francesi del pericolo. Ha colto perfettamente il punto. in Germania, lì c'era un amico di Villari, Karl Hillebrand, che insegnava a Firenze, che faceva di fatto il mediatore, il corrispondente dall'Italia. Lì diciamo che giocava un po' in casa, la recensione era assicurata. Ma non era così comune. E anche in Italia le reazioni sono numerose e, si badi, non tutte positive. Anzi, da Napoli arrivano un sacco di proteste, ma molte. Il prefetto, il presidente del tribunale, i giornalisti. Uno che poi diventerà famosissimo interlocutore critico di Villari, ma interlocutore e amico in qualche modo di Villari, Pasquale Turiello, che gli risponde a brutto busco. Non è vero, hai esagerato, ci sono dei problemi, ma non così gravi e comunque queste cose tu, deputato della destra, non dovevi dirle. Questo che gli fanno notare. Stai attaccando di fatto il governo che sostiene. E in questo primo scambio di lettere con Turiello, che è personaggio che andrebbe ripreso, che ha conosciuto una certa fortuna, quando in Audi ripubblicò una versione ridotta di governo e governati in Italia. Ma ci sono moltissimi documenti che riguardano Turiello. È un'amplissima produzione giornalistica difficile da individuare perché non firmata, ma si possono attribuire gli articoli di Turiello, che meriterebbe di essere recuperata. È uno dei grandi protagonisti di quegli anni di dibattito. Turiello, fra l'altro, scrive a Villari, anche qui non perdo tempo a cercare la citazione, cito a memoria, con come me la pensa il giovane Fortunato di Rio Nero. Allora Giustino Fortunato all'inizio non è nella filiera villariana. È uno che la pensa in modo diverso. Sta a conturare e in fondo continuerà a pensarla in modo in parte diverso da Villa. Fortunato, lo sapete, era un teorico dell'inferiorità naturale, dal punto di vista agronomico naturale, delle caratteristiche strutturali dei terreni meridionali che rendevano molto difficile l'applicazione al mezzogiorno di sistemi culturali come la Mezzadria Toscana e così via. Fortunato sta di là all'inizio. Sarà integrato nel progetto della rassegna settimanale, ma non viene da lì. Peggio ancora, e qui concludo davvero, poi magari qualcosa la riprenderemo nella discussione, da parte della sinistra, soprattutto della sinistra siciliana. E a scrivere a Villari è un personaggio pesante, il duca siciliano Gabriele Colonna di Cesaro, parlamentare della sinistra Garibaldino ad Aspromonte, quindi non sospettabile di simpatie moderate, che scrive, accusa Villari di inesattezze e di esagerazioni in un articolo di giornale, ma poi gli scrive personalmente e privatamente. La questione agraria sociale può influire sull'organismo della mafia, ma da lontano e in piccolissima parte. Infine mi permetterò di dirle che certe questioni, come le sociali, sono sempre le mal arrivate. Prevenirle è dovere dell'uomo di Stato, ma metterle sul tappeto, dar loro anima e corpo, quando ancora non hanno preso alcuno dei caratteri necessari per essere questioni, mi pare estremamente imprudente e pericoloso. E questo era un Garibaldino di Aspromonte, insomma, per capirsi. Quindi molte reazioni sono di questo tipo, il che spiega l'intensificarsi poi dell'iniziativa di Villari proprio per cercare di vincere e di andare oltre questo tipo di resistenza. L'ultimissima parola è sugli aspetti nazionali di questa prospettiva. Il meridionalismo di Villari è distante dal meridionalismo rivendicazionista da Nitti, lo Stato ha sottratto risorse al mezzogiorno e ora ce le deve ridare. È un'altra cosa, è il tentativo di porre in chiave nazionale una questione agraria e sociale che è specificamente localizzata al sud, ma non solo. I primi flussi migratori dall'Italia negli anni settanta non sono dal sud, sono dalla Liguria e dalla pianura padana. Vanno via quei contadini, non vanno via i contadini meridionali. La pellagra non è nelle campagne meridionali, è a Rovigo. Il disagio sociale è un disagio generalizzato, la questione va posta in chiave nazionale, non si può pensare ad accettare la permanenza di un dualismo. A questo punto, una volta fatta l'Italia, occorre ricondurre, anche se gradualmente, a un certo livello di omogeneità sociale il Paese, pena la sconfitta del progetto unitario. Villari è uno di quelli che ha colto subito, ad esempio, nel 1866 una svolta interna sulla quale noi, dico noi gli storici, pensiamo poco. Il regno d'Italia per molti anni è stata una creatura incerta. In Austria lo avranno chiamato, come noi chiamavamo l'Isis, il sedicente regno d'Italia, perché non c'è un riconoscimento diplomatico. È con la guerra del 66 e con il trattato di pace che l'impero ausburgico è obbligato a riconoscere il regno d'Italia, a ricevere un ufficiale dell'esercito italiano indivisa da un ufficiale esercito di Alianzo. E lì, Villari lo scrive in questo saggio del 66 di chi è la colpa, è la fine delle speranze legittimiste. Effettivamente con il 66 l'ipotesi di una restaurazione, con riconoscimento dell'Austria, l'ipotesi di una restaurazione in Italia dei sovrani deposti non c'è più. Sì c'è Francesco II a Roma, ma ormai conta poco. C'è a Roma Leopoldo II di Toscana. Quando muore Leopoldo II di Toscana nel 1870 la corte di Savoia proclama 40 o 70 giorni di lutto, perché era un parente del re. Le famiglie reali erano imparentate, però nessuno pensava di riportare Leopoldo di Toscana sul trono della Toscana. Cioè la sua idea unitaria si basa sulla considerazione della necessità di consolidare un qualcosa che ormai a livello internazionale è riconosciuto e deve essere capace di collocarsi nell'albero, nel contesto della civiltà europea, al livello che appunto la tradizione italiana competerebbe. Villar in fondo è una specie di applicazione alla questione sociale del gran tema di tutti i primi anni 60 del ritorno dell'Italia nella circolazione del pensiero della vita europea, del gran tema proposto da Spalenta sulla circolazione del pensiero. E' quello l'obiettivo. E questo tipo di elaborazione culturale, la proposta di questo tipo di testi che ripeto ebbero un successo contrastato ma furono letti, mirava esattamente a questo. E' fallito, ha perso. Cioè quel tipo di riforma, quel tipo di cultura politica non è diventata la cultura politica della sinistra di governo. La sinistra di governo ha seguito altri indirizzi di politica sociale, solo molto in parte si è rifatta ad alcune delle rivendicazioni. Sì, la riforma elettorale, ma l'ha fatta a modo loro, però l'abolizione della tassa sul macinato, ma non grandi interventi di riforma. In una lettera molto triste al suo capo elettore di Guastalla, che vi cito a memoria, Villari, non rieletto nelle elezioni del 76, dirà, è vero, ha ragione lei, noi siamo del partito dei fiaschi. Io credo che un'ottima formula per raccontare la storia di questi gruppi intellettuali potrebbe per l'appunto essere, ma lo dico con tristezza perché era un bel progetto, quella appunto del partito dei fiaschi. Grazie. Grazie. Il partito dei fiaschi crea un po' di ansia, diciamo, è un bel destanze. E comunque lo ringrazio ancora e chiedo se ci sono degli amici che vogliono intervenire nella discussione. Chi vuole intervenire? Cominciando dagli aieri. Grazie a tutti. Mentre parlava ci sono venute in mente sempre due immagini. Allora la prima è dei terzi storici di Karl Marx, si parla dei contadini che in qualche modo se potessero votare voterebbero sempre per la reazione e non certo per la rivoluzione. L'altra immagine è la figura della riforma intellettuale e morale di Gramsci. Quindi parleremo di Gramsci in questo ciclo di seminari, quindi la velocità del tempo puoi entrare nel pensiero di Gramsci. Però questa etichetta di riforma intellettuale e morale è molto complessa, perché che cose in fondo dobbiamo riformare? Bene l'intelletto e la morale, diremmo, ma di chi? Ecco, dei contadini, della classe dirigente. Quindi se questa etichetta di riforma utilizzata può essere utilizzata anche per il progetto di Pasquale Villari e però in che modo Pasquale Villari lo vuole in qualche modo mettere in pratica e mi pare evidente, insomma, il ruolo della pedagogia che si diceva in relazione poi a quello che sarà stata, insomma, che sarebbe stata la riforma gentile del 23. E se c'è anche qualcosa da dire su questo, grazie. Rispondo solo, ma forse sì, intanto se qualcuno poi pensa, sì. Dunque qui ci sono due spunti diversi. Il primo, e qui penso direttamente a Gramsci, è il problema del revisionismo risorgimentale. Gramsci è molto accentuato, è la riforma agraria mancata e il risorgimento come reazione. Alcuni elementi che possono far pensare, ma Gramsci e Villari lo conosceva, che possono far pensare a un atteggiamento del genere in Villari si potrebbero trovare ma isolandoli dal contesto. E' come dicevo prima, in realtà la sua è una critica che dà per scontato e per acquisito positivamente il processo di costruzione dello Stato. E che non pensa di rimettere in discussione gli equilibri consolidati, pensa di modificarli con una lenta e progressiva azione di riforma. Non è però una riforma, una rivoluzione mancata nel senso Gramsci. Villari non pensa a questo, anche quando scrive, no, la libertà che tu volevi era per tuo uso e consumo solamente e così via. Non è una messa in discussione degli esiti del processo risorgimentale, una messa in discussione delle lentezze, delle difficoltà di avviare una politica interna adeguata alle esigenze di modernizzazione, di trasformazione, di libertà, di giustizia, che uno Stato liberale deve avere. Cioè, la libertà non basta, no? La libertà per tuo uso e consumo, appellarsi solamente all'effetto emancipatore delle istituzioni liberali. Questo no, però non vengono messi in discussione, occorre aggiungere. L'altro è un problema enorme. Io non credo che la formula sia usata, direi di no, in questo senso, ma a quello pensa Villari. E lì torniamo al discorso che facevo prima sugli arcadi. Se un aspetto del discorso sulla questione sociale è legato a provvedimenti concreti da prendere sul modello gladstoniano per l'Irlanda e così via a favore dei contadini, riforma dei patti agrari, riforma del credito agrario, gestione dell'emigrazione comincia, perché Villari nota subito che i proprietari terrieri sono contrari all'emigrazione, perché se i contadini emigrano, i pochi che restano sono in grado di chiedere miglioramenti salariali notevoli e così via. C'è tutta una serie di provvedimenti concreti che vengono indicati, alcuni realistici, altri meno, ma quelli sono dedicati al ceto contadino. La riforma intellettuale riguarda invece 5 milioni di arcadi, riguarda cioè la scuola secondaria e l'università, soprattutto la scuola secondaria, perché l'università al tempo, in Italia, nel 1875, nelle università italiane, in tutte le università italiane, forse c'erano 20.000 iscritti. Quindi stiamo parlando di numeri. Mentre la scuola secondaria era, ed sarà, per Villari, per Salvemini, per Gentile, il cuore del pensiero scolastico, è la scuola secondaria il luogo dove si fa la riforma intellettuale e morale del paese. Poi quali fossero i contenuti, e questa è un'altra questione, Villari non è filo protestante, a differenza di alcuni amici suoi come Aristide Gabelli, perché c'è tutta invece un pensiero sottotraccia che corre nell'Ottocento italiano, che è quello della mancata riforma religiosa. Io ho l'impressione che Villari la veda come il maestro Salvemini, quando la riforma protestante prende corpo in Germania, in Italia si è oltre, cioè non si può più riproporre quella roba lì, è Macchiarelli, non c'è più la possibilità. Quindi il problema non è quello, forse, della mancata riforma religiosa, quanto quello di una crisi morale indotta dalla temporalizzazione della tradizione cattolica e dalla rottura fra Chiesa cattolica e mondo all'indomani, con la rivoluzione francese e all'indomani della rivoluzione francese. Seville era un durissimo critico della Chiesa del Sillabo e del Vaticano I, durissimo in quell'intervento parlamentare del 1975, dice cose veramente molto severe. Però non è la nostalgia della riforma protestante, è qualcosa di diverso. Ma lo dice nelle lettere medievale, lo dice chiaramente. Occorre un nuovo ideale quasi religioso che sia l'ideale della giustizia sociale, una secolarizzazione di una spinta etica che non necessariamente ha una conformazione confessionale. Lui non è filo protestante, però lui litiga con Mill su questo punto. Mill gli scriverà un paio di lettere piuttosto dure sul giudizio superficiale che Villari ha dato della riforma protestante in un suo saggio, però si capisce che non è quello il punto vero. Mentre in altri storici, in altre riflessioni, questa questione della mancata riforma religiosa nella cultura dell'Ottocento emerge. E' quella modernizzazione positiva che si poteva basare da un lato sulla rivendicazione di una tradizione italiana. In particolare, guardate, nel Regno d'Italia, prima della presa di Roma, si celebrano tre centenari giganteschi. 64 Galileo, 65 Dante, 69 Machiavelli. E' l'indice della storia della letteratura italiana dei Santis. Sono l'indice, è la tradizione italiana che si può opporre effettivamente alla tradizione delle corti principesche e vescovili, alla tradizione delle corti dell'Arcadia, è questa roba qui. Quindi esiste, e poi c'è l'illuminismo. Villari pubblicò nel 54 un'edizione di Beccaria che fu stroncata dalla civiltà cattolica, gli fanno una recensione terrificante e nel 64 pubblica Filangeri. Cioè esiste una tradizione italiana che può consentire, grazie anche al confronto con le nuove correnti del pensiero europeo, Mill molto più di Comte che non gli piace, un granché, che può consentire l'elaborazione, come dire, di un perimetro di testi e di idee di riferimento e di modernizzazione generale della cultura del paese. Negli anni Sessanta e inizio degli anni Settanta lui insiste, anche in molte lettere, sulla polemica contro quelli che chiama insistentemente Arcadi e Retori. Gli Arcadi e i Retori. La cultura italiana va modificata e lui ha una scrittura molto antiretorica, tra l'altro, molto piana, ha uno sforzo di comunicazione che lo stacca molto da certa prosa politica tradizionale. Voglio dire, se uno legge Gioberti e legge Villari si rende subito conto che stiamo parlando di autori non distantissimi nel tempo ma che scrivono di politica in un modo completamente diverso. e quindi ecco, ricostruzione di una tradizione che è possibile, cioè il pensiero italiano ha al suo interno, la tradizione italiana ha al suo interno gli elementi di appoggio. Io scrivo una biografia di Machiavelli, poi no. Non è il suo capolavoro, ma non è nemmeno il libraccio che era sembrato a Benedetto Croce. A me è capitato di scrivere una noticina molto breve sull'encecopedia machiavelliana è meno peggio di quello che hanno voluto far credere quel libro, tutto sommato. Contiene anche alcuni elementi, poi di moralismo pesante, sì per carità, ci sono delle pagine fastidiose nel Machiavelli di Villari, ma qualcosa da salvare, oltre all'erubizione notevole, qualcosa da salvare c'è. Quindi è questo ed è quella genealogia che poi ritroviamo nel 70 nella storia dell'etteratura italiana e dei santi sono da questo punto di vista abbastanza simili. La grande produzione di De Sanctis del 1872 sulla scienza e la vita può essere letta in parallelo col discollo articolo del 72 di Villari sulla scuola e la questione sociale in Italia. Stanno facendo lo stesso discorso. La riforma intellettuale e morale si gioca sul terreno della politica scolastica e sulla elaborazione di un'altra tradizione nazionale. Guardate, io prima l'ho saltato, ma già che ci siamo, andiamoci, perché c'è una famigerata, pagine di D'Azeglio che viene sempre citata a sproposito. D'Azeglio non ha mai scritto che fatta l'Italia bisognasse fare gli italiani, non è vero. Gli italiani c'erano già e l'Italia anche. Il discorso è un altro. E allora, che scrive D'Azeglio? L'Italia da 50 anni si agita, ha riacquistato il territorio in gran parte, sono pagine del 67, lotta con lo straniero sta andando a buon punto, ma non è questa la difficoltà maggiore. E da qui cito. I più pericolosi nemici d'Italia non sono i tedeschi, sono gli italiani. E perché? Per la ragione che gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vetti di prima, con le dappocaggini e le miserie morali che furono a bantico la loro rovina. perché pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che per riuscirci bisogna prima che si riformino loro. Il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani che sappiano adempiere al loro dovere, quindi che si formino alti e forti caratteri. Non è che l'Italia non c'era e ora c'è e gli italiani non c'erano e non ci sono ancora. L'Italia e gli italiani c'erano, ma erano quelli vecchi. Si è fatta una nuova Italia e il guaio è che continua a essere abitata dai 5 milioni di arcadi di Villari. Non dice una cosa molto diversa, peraltro la dice negli stessi anni, la dice nello stesso torno di tempo. Non dice una cosa molto diversa. E lui dice questo. Il problema educativo è un problema che si colloca in questa prospettiva, che si colloca in questa prospettiva qui. Che dietro ci fosse una grossa questione religiosa, lo sapevano benissimo, c'è un episodio singolare che, richiamo così in fretta, di pubblicare a suo tempo i documenti. Alla fine degli anni Ottanta, il grande pedagogista e scrittore di etica, Aristi di Gabelli, Aristi di Gabelli ha scritto forse il più bel trattato di etica positiva della cultura italiana dell'Ottocento, che si chiama L'uomo e le scienze morali, pubblicato nel 69, che mi capitò di ristampare per le monnier, e che, lo dico per inciso, fu elogiatissimo da Edmondo De Amicis che gli scrisse scrivendo il cuore, io pensavo, all'etica che sta nell'uomo e nelle scienze morali di Gabelli. È una delle fonti di quel gran libro che è il libro cuore. Gabelli, che era un grande pedagogista, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, aveva preparato un programma religioso per l'insegnamento delle scuole elementari. Lo porta al Consiglio Superiore, Villari si oppone, il governo non può fare un programma per l'insegnamento religioso. L'insegnamento religioso è facoltativo, lo fanno i sacerdoti, non è materia curricolare, si fa fuori orario, lo fanno loro, discutono un po' al Consiglio Superiore e poi interviene Carducci, la ragione a Villari e quando interviene Carducci partita finita e il programma per l'insegnamento religioso nelle scuole elementari non si fa. È però un problema, rimane al fondo l'idea che un paese così profondamente cattolico come l'Italia, questo riguarda l'istruzione femminile che è uno dei grandi cruci di Villari, è stato uno dei primi a occuparsi sistematicamente di istruzione femminile e a notare il fatto che le famiglie, anche laiche, liberali, risorgimentali, mandavano le figlie regolarmente a scuola dalle suori. E lui dice così non funziona, non può andare. Così lo dirà, di nuovo cito a memoria, si crea una nazione di clericali e di volterriani, cioè di miscredenti e non va bene né il clericanesimo né il volterrianismo. È quello un problema di fondo che resta un problema irrisolto, però quella è una questione che nell'arco della sua esperienza non si risolve, ma che allo sfondo di questo discorso sulla riforma intellettuale e morale c'è, è inutile negarlo. Contella? Anche domande? Dice Contella. Ringrazio anch'io dell'invenzione ricca di cosa ha fatto pensare a una domanda specifica un po' più difficile. La domanda più specifica la faccio dopo, però la risposta che ha dato adesso è una domanda che mi ha venuto il dubbio, quindi la chiederò come domanda da ignorante. Rispetto a Max Weber, quando arriva in Italia, rispetto a questa sua diversa sensibilità della riforma mancata, c'è una risposta di Villari, c'è un qualcosa, lei ha detto che non è un pensatore sistematico, quindi rispetto che possa mancare un qualcosa di detenimento, però magari anche in ambienti vicini o in ambienti vicini, ecco questo mi ha venuto in mente a chi ha dovuto. La domanda un po' più articolata è questa, rispetto al Villari storico che poi sarà parte integrante degli istituttori italiani. Direttore, si deve. Poco perché cominciavano più avanti, era tutto novecentesco il convegno. No, vorrei chiedere rispetto a questa pensione di 5 milioni di ARCA di Vini. Qual è il modo della storia pensata politicamente di un'istituzione come un istituto che viene fondato o come un'istituzione politica che deve raccontare centri periferiti che poi è italiano, di un istituto di storia italiana e di tutti i suoi figli di centri di istituzione. Questo è un paramento proprio disse volare la cultura italiana e anche forse il valore storico in generale, però lui da storico è già stato un politico, quindi conosce consiglio di restituzione superiore, eccetera. Che tipo di ruolo dà per informare la testa di questi 5 milioni di ARCA? Allora, su Weber io non ho a memoria notizia. Villa riconosce abbastanza la letteratura storiografica tedesca, fa anche citazioni assai precoci nei suoi scritti storici più tardi. Di Weber non ho memoria, però invece prima di Weber appunto la tesi dell'etica protestante e lo spirito del capitalismo è chiaramente abbozzata da Gabelli nell'uomo e le scienze. Ora, Gabelli invece è un vero filo protestante, lui è proprio un filo protestante e viene fuori perché le nazioni più sviluppate sono quelle protestanti, perché la domanda era elementare, bastava guardarsi intorno e lui abbozza in questo libro un tentativo di risposta, mentre che io ricordi non c'è una posizione, posso sbagliare, vi l'era scritta talmente tanto, ma non la ricordo. Allora, l'altra, questa è una questione duplice, una è di politica istituzionale, chiaramente, l'altra è invece di ruolo, come dire, della cultura storica, di una cultura storica riformata nella riorganizzazione del mondo culturale e morale dell'elite nazionali e locali, non so come, buttiamola così. Sul primo punto, guardi, non ce l'ha fatta nessuno, per l'appunto, avevano una dinamica strana quelle istituzioni, Villari, che era un uomo influente a livello nazionale, anche se io queste cose poi vorrei vederle su altri meccanismi, ad esempio invoco i giovani studiosi di storia delle discipline a farmi per le varie discipline una storia dei concorsi a cattedra, perché io ho scritto un paio di saggi sulla normativa concorsuale, cioè sulle regole, e già mi hanno fruttato più di un'antipatia. Beh, sono argomenti che è meglio non toccare di solito, ma invece, perché poi bisogna avere chi va in commissione, cioè quali sono, come si manifestano gli equilibri interni ai vari assetti disciplinari, e io non ho mai avuto l'impressione che lui fosse un padrone dei processi di reclutamento, basta vedere la difficile vicenda del suo allievo prediletto, di Salvelli. Ora lui a Firenze non ce lo voleva, sapeva di non potercelo chiamare, però insomma stenta parecchio. Ecco, quindi, provateci, perché questo nelle discipline umanistiche è un rivelato, ci vuole un po' di pazienza, ma le composizioni delle commissioni si possono ricostruire tutte e tutti in archivio, bisogna mettersi e fare. Quindi non ci riesce, sono istituzioni strane, sono dinamiche strane, milleri che contava, entra di fatto a controllare la deputazione di storia patria toscana. Quando sono morti tutti quelli che c'erano prima, ma morti, cioè finché non muoiono, lui non riesce a prendere il controllo. Ci arriva tardissimo, negli anni, a fine degli anni 80, anni 90, ma finché sono vivi i tabarrini, poi ci sono i cattolici, Cesare Guasti, tutti gli archivisti, gli fanno una resistenza. quando arriva prende tutto, la rivista, l'archivio storico italiano, prende tutto lui, però arriva tardi. Cioè c'è una notevole impermeabilità delle traduzioni erudite locali di fronte alla penetrazione della cultura universitaria e c'è un lungo periodo di convivenza non semplice fra i professori e gli eruditi, gli archivisti, i bibliotecari, i sacerdoti, cioè il vecchio staff dell'erudizione storica. E poi a livello centrale contano troppo come si fa in Italia a pensare di coordinare da Roma-Torino o Napoli. Era deletario, cioè il progetto avrebbe funzionato molto meglio se si fosse limitato a progetti nazionali di edizione di fonti, cosa che a un certo punto provano a fare, ma era quella la via. E lì, guardi, non è che non abbia funzionato, e sono sempre rimasto molto colpito dal fatto che, mi sembra nell'11, ma vado a memoria, ma comunque, grosso modo, l'istituto storico prussiano, cioè il massimo, al mondo, non c'è nient'altro, proponga all'istituto italiano su base paritaria l'edizione delle fonti Longobarde in Italia. È un riconoscimento che 30 o 40 anni prima sarebbe stato del tutto impensabile se uno legge le lettere dei monumentisti, degli storici tedeschi che girano per l'Italia a raccogliere. Descrivono la situazione italiana come di un paese coloniale, tutto sommato, il rapporto è quello fra colonizzatore e colonizzato. Nell'11 questo divario si è colmato, cioè a dire è vero che molte cose non hanno funzionato, ma non sottovalutiamo i progressi culturali e istituzionali dell'Italietta, perché hanno fatto parecchio, considerando il punto di partenza, almeno, hanno fatto parecchio. Però certo, il coordinamento nazionale lo fa dei vecchi e col partito fascista poi appena cade lui finisce e va bene. Il discorso è diverso da quello che riguarda il ruolo delle storie, perché questo è un ruolo ambiguo. Prima parlando, così, a chiacchiera, facevo notare un dato che a me ha sempre fatto riflettere e che credo che occorra tematizzare. Mentre le grandi culture storiografiche europee producono nel corso dell'Ottocento manuali di metodo storico, grandi, Germania, vabbè, Germania ha una quantità enorme, Freeman in Inghilterra, l'Angloise, Gnobo in Francia e in Germania tutti i manuali poi in parte, l'Italia no. Gli italiani teorizzano a un livello più basso in, come dire, forme testuali diverse, facendo brevi programmi scientifici delle riviste o prolusioni accademiche, ma non è la stessa cosa. In questo contesto qui il ruolo della storia è segnato da un'ambivalenza fondamentale. C'è un'altra prolusione di Villari molto bella del 68 sull'insegnamento della storia, appunto. Perché a che serve l'insegnamento superiore in questo caso della storia? A due cose che stanno male insieme, dice lui. Formare insegnanti per la scuola secondaria che hanno bisogno di un certo tipo di informazione e formare studiosi e ricercatori che, secondo Villari, hanno bisogno di un altro tipo di formazione. Lui pensa che sia possibile, come diciamo oggi, metterle in serie. Cioè che l'università possa dare all'inizio una formazione di base discorsiva, classici della storiografia, larghi contenuti di tipo manualistico che poi sfociano nella formazione dell'insegnante e dopo, per quegli allievi in numero minore che vogliano farlo, una formazione di avviamento alla ricerca. A Firenze, detto per inciso, lo potevano fare perché Firenze era una delle pochissime università, poi non era un'università, ma insomma era uno dei pochissimi centri di studio superiore in Italia che avesse borse post laurea, ma erano pochissime. Di solito li mandavano all'estero. La politica del Regno d'Italia era mandare i borsisti all'estero. Firenze era uno dei pochissimi centri che gli avevano. Questa è una questione che rimane aperta e che fa problema perché a che serve la cultura storica e quindi su che base si formano gli insegnanti. Considerate che all'epoca l'associazione disciplinare era storia-geografia, non storia-filosofia come con Gentile. Cambia tutto dopo. Gentile stravolge dell'asse culturale dell'Italia liberale con matematica e fisica insieme e storia-filosofia insieme. Altera tutto quello che era stata la struttura di insegnamento secondario per molti anni, per decenni. Perché se serve a formare insegnanti è un conto e ha una funzione, allora bisogna insistere su certi testi, su certi canoni, su un certo modo di... sulla lettura più che sull'esercitazione erudita, per dire, sulla lettura di testi più che sull'esercizio tecnico sulle fonti. Se serve a formare uno storico di mestiere bisogna fare altro. Rimane aperto e rimanendo aperto io ho l'impressione che si lasci aperto anche un grosso campo a tutta una serie di discorsi sulla storia che non sono tutti fatti da professionisti della ricerca. All'epoca è anche difficile distinguerli. Alessandro Dancona cos'era? Un critico letterario, un filologo, uno storico, che era da tutto. Cioè, non c'è una figura professionale così come la conosciamo noi oggi, grande interlocutore di Croce, che lo rispettava moltissimo nonostante fosse un erudito. Quindi, difficile dire tanto cosa fosse uno storico di professione. Ma c'è un campo largo per cui, ad esempio, spero che ve ne parli San Natore Lupo, anche se si parla di meridionalismo non potrà parlare di tutto nella segna settimanale, di storia si discute sulle riviste di cultura e di politica generale. Chi sfogli la nuova antologia ci trova saggi tecnici di storiografia scritti da storici di mestieri. Chi sfogli la rassegna settimanale ugualmente, chi prima sfogliasse il Politecnico post-Cattaneo, il Politecnico di Francesco Brioschi ugualmente. C'è la... E quindi c'è un ampio discorso storico rivolto al pubblico colto, che in Italia è un pubblico limitato, controllato solo in parte da professionisti e quello credo che invece conti molto nel formare un'opinione. La dico con una battuta, ma un lettore comune della rassegna settimanale se leggeva in quella rivista gli interventi di storia, leggeva Carducci, le prose e le poesie di Carducci, è quello il modello evocativo e quindi poi se ne seguono anche gli estiti sul piano della cultura generale, voglio dire, non è indifferente. Buonasera professore, grazie per la bella lezione. Mi è molto piaciuta la riflessione sulle due itali, perché ci sono storici e anche Carducci a parlare di questo, per il regno di Napoli, che dicano questa differenza risalda addirittura al Medivere, che gli dice che la differenza tra il regno di Napoli e i comuni dell'Italia a Scaddi e poi si riproporre nei secoli. Continuano a dirlo dei sociologi americani anche in decenni e in anni recenti e non è finita questa storia qui, continua. Però lo piacciono queste dimmi le persone. Ma io le chiedo riguardo a nord Italia. Ci furono delle indagini sul tipo di villari sul nord Italia e sulle campagne del Veneto e della Lombardia il problema dell'immigrazione o altri problemi sociali ed economici. Allora lì c'è un personaggio chiave per il coordinamento di queste iniziative che appunto Agostino Bertani lo ricordavo prima medico grande esperto di questione sociale democratico aveva cercato di soccorrere Mazzini al momento della morte non arriva in tempo era un grande personaggio della cultura democratica dell'epoca c'era Jesse White Mario che era amica di Bertani e moglie di Albert esiste una Stefano Iacini cioè c'è tutta una tradizione di scrittori politici che indaga e poi c'è l'inchiesta agraria dopo i grandi volumi dell'inchiesta agraria cioè le condizioni sono note e di emigrazione si discute ma molti altri di Messedaglia cioè con i quali tra l'altro Villari dialoga per questo quando dicevo prima bisogna stare attenti alle genealogie no Villari Franchetti Sonnino Fortunato sì chiaro che è così nessuno la mette in discussione non è sufficiente accanto ci sono altri interlocutori e questo serve appunto a complicare ad arricchire il quadro perché la situazione d'Italia ma guardi ora nell'articolo del 1872 sulla scuola della questione sociale in Italia giusto adesso vorrei trovare una citazione ma Villari parla proprio del nord fra l'altro non si ferma affatto a parlare solo della situazione nelle campagne nelle campagne del sud e cita ovviamente Iacini sui contadini ma scusa ma è proprio bella e allora la troviamo eccola qui Marta vedi 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 tu un po' io qui chiudo va bene va bene ciao Mauro grazie grazie Michele grazie per l'invito arrivederci a presto lui racconta lui racconta Villari di un viaggio che sta facendo in Svizzera parla con della guida e dei contadini svizzeri e nota per l'appunto la diversa situazione materiale di quelle terre e questa onestà dice Villari non nasceva tanto da un privilegio della razza questo è un altro aspetto già che ci siamo una parte importante del meridionalismo di fine ottocento è un meridionalismo antropologico razzistico antropologico etnografico ecco Villari non c'entra niente è pre ma qui i lombrosianesini vari o peggio ancora i nicefori o peggio ancora adesso non mi ricordo esattamente qual era il deputato socialista che disiva che gli italiani si distinguevano i nordici e sudici e così via no no è una citazione questa Villari no cioè non ci siamo non è questo il terreno sul quale si articola sul quale si articola la non è un privilegio della razza non da qualità superiori di intelligenza quanto dall'essere il paese popolato tutto da contadini proprietari è la struttura sociale che determina lì un certo stato di relativa fiducia reciproca e di relativo obessere che costituisce quindi una società coesa e che si basa su valori condivisi attenzione è importante perché vuol dire tagliar fuori tutta una serie di discorsi sugli stereotipi nazionali cioè su tante di quelle cose che condizioneranno poi il discorso meridionalistico noi no semplicemente date certe condizioni sociali si riproducono ora in villari a volte questo era un po' meccanico però per l'appunto non funziona così poi incontra due viaggiatori tedeschi è un racconto di viaggio ci parla conoscevate l'Italia no che impressione vi ha fatto dolorosa un clima bellissimo un cielo incantevole paesaggi stupendi ma non c'è mai seguito di vedere tanta miseria nei contadini poi continuano i puristi tedeschi è sleve di viva la libertà ma noi siamo liberi io dissi voi sì ma essi sono schiavi tre anni dopo lo riprenderanno e le termine di lei appunto i rinvii interi e che potevo rispondere quello che io sapevo sullo stato delle popolazioni agrarie in molte parti d'Italia dava ragione ai viaggiatori tedeschi e qui cita Iacini in molte parti d'Italia la il meridionale emerge come effetto di densità cioè di maggior concentrazione e di minor presenza di alternative cioè di un'articolazione sociale più povera più rozza mentre accanto alle grandi miserie delle campagne del nord ci sono anche altre e diverse configurazioni dell'attività economica e sociale ma è un dal meno al più non è un'alterità non sono le due itali ecco di questo sarei abbastanza convinto altre domande anche del pubblico ecco sono quasi io sono sempre disponibile se ci sono benissimo benissimo allora ci fermiamo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.